Quando avete deciso di adottare il modello sottocoda presente nei modelli da corsa? Osservando i successi e le prestazioni dei team che montavano il nostro scarico, tra i quali Paul Bord che oltretutto ha vinto l'edizione nel 2016, abbiamo deciso di adottarlo anche sulla moto di serie. Innanzitutto è stata una scelta dettata per cercare un incremento di prestazioni della moto, perché ormai lo scarico sottopancia era un po' limitato nello sviluppo. Allora abbiamo deciso di portare i silenziatori sottocoda per allungare i collettori, dare maggior possibilità di sviluppare la moto e avere aumenti di prestazioni del motore. Quali sono i problemi che avete riscontrato nello sviluppo? Questo scarico è sicuramente molto bello esteticamente, però a livello di sviluppo ci ha creato non poche difficoltà. Innanzitutto il problema grosso è stato posizionare i silenziatori sotto sella, dove la moto di serie ha pedane passeggero, porta targa e altri ingombri. Quindi una volta risolti questi problemi e piazzati i silenziatori siamo riusciti a trovare migliorie anche nel collettore, quindi allungando il giro curve e diametri più grossi per aumentare le prestazioni. In quale modo il sound è migliorato e qual è stato il vostro obiettivo in merito? Allora il suono è un argomento che ci sta molto a cuore. Uno degli obiettivi principali della Termignoni è sicuramente avere il sound più bello di tutti. Diciamo che questo progetto, quindi portare i silenziatori in una posizione più alta, ci ha aiutato molto a raggiungere l'obiettivo. Infatti togliere i silenziatori da vicino al motore, coperti dalle carene e portarli dietro, abbiamo migliorato parecchio il sound, che adesso ricorda molto di più quello delle moto di una volta, delle Ducati di una volta, tipo 916, 998. Quali sono i consigli tecnici che offriresti riguardo al D-170? Il consiglio che vi posso dare è quello di seguire attentamente le istruzioni che abbiamo fatto, che trovate presenti nel kit e che sono anche sul sito internet. Queste vi permetteranno di non avere problemi in fase di montaggio, dopodiché divertitevi. Grazie. Grazie.